Ragazzi, mangio una banana perché se no volto via, come si dice a Verona, cioè svengo. Allora ho un serio problema con Facebook, ma serissimo ragazzi, cioè quando mi risucchia Facebook in quella serie di video lì, uno dopo l'altro non riesco più a staccarmi, che nervoso! Però c'è il risvolto positivo, qual è? Che riesco sempre a trovare in questi video delle buone espressioni inglesi, dei buoni modi di dire inglesi, per poi proporveli a voi. Questo ragazzo dice Cosa vuol dire to pull something off? Vuol dire, signori, riuscire a fare qualcosa di magari un po' difficile, un po' complicato. Oppure per esempio vincere qualcosa di un po' difficile, un po' complicato. Quindi cosa è successo lì? Gli hanno organizzato una festa sorpresa per la sua laurea e lui gli ha detto Cioè, cavoli, ce l'avete fatta e non mi ero accorto di nulla. Ce l'avete fatta e era difficile organizzarmi una festa di laurea qua sul posto di lavoro dove mi vedete sempre. Però, you pulled this off, ce l'avete fatta. He pulled off a brilliant first round win. È riuscito ad ottenere la vittoria nel primo round. Quanto buone sono le banane! Quanto buone sono le banane!